Nei giorni scorsi, lungo la centralissima via Cavour a Vittoria, sede di numerosi locali, gli agenti del commissariato hanno denunciato all'autorità giudiziaria, in stato di libertà, un minorenne con numerosi precedenti di polizia per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e oltraggio a pubblico ufficiale. I poliziotti hanno notato la presenza di due giovani, tra cui il minore denunciato, entrambi noti alle forze dell'ordine per i numerosi precedenti di polizia, a girarsi tra i locali della Movida della centralissima via Cavour. Alla vista della volante, uno dei due ragazzi si è dato alla fuga dileguandosi in mezzo alla folla, mentre l'altro è stato raggiunto e prontamente bloccato. Sottoposto a controllo, il minorenne è stato trovato in possesso di 13 grammi di ascice e di un bilancino di precisione necessario per il peso dello stupefacente. A questo punto il giovane ha minacciato ripetutamente gli operatori di polizia che con non poche difficoltà sono riusciti a ricondurlo alla calma. Da un approfondito controllo nella banca dati interforze, il minore è risultato altresì gravato dalla misura di prevenzione del DACUR, il divieto di accesso alle aree urbane emesso dal questore, con divieto per due anni di frequentazione proprio dei luoghi della Movida Vittoriese, per il fatto di essersi reso responsabile del reato di lesioni aggravate e porto abusivo di armi nei luoghi interessati dal controllo di polizia, provvedimento già violato dallo stesso minore alcuni giorni prima. Pertanto il ragazzo è stato segnalato nuovamente per la violazione del suddetto provvedimento. Alla luce di quanto accertato, il minore è stato condotto presso il commissariato di Vittoria, dove è stato deferito all'autorità giudiziaria in stato di libertà per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e oltraggio a pubblico ufficiale. Espletate le formalità di rito, il giovane è stato affidato alla madre.